Allora, questo video non era previsto, è il video di una liberazione di un volatile intrappolato dentro nella canna fumaria, vediamo che disastro sarà in grado di fare questo simpatico amico ho prenduto, c'è una paura, non aprite quello sportello, è lui, è lui, è lui, allora, va estratto velocemente e portato fuori attenzione, è come se fossero i ghostbusters, tirato fuori la velocità della luce e messo fuori prima che smerdi tutto in casa Trois, due, un Che paura Dire le mie preghiere E che è di notte, non so dove va quel disgraziato, appena vede la luce Sei qui? Boh, forse è morto Ce l'ha fatta? Oh mio dio, sei schiantato Oh, eccolo qua, maledetto Ce l'ha fatta, forse è sopravvissuto Mamma che paura Manco fosse un dinosauro Maledetti dinosauri Vattin Anche oggi I sediti del panda Hanno salvato un volatile Vattin